Ucciso e sciolto nell'acido perché aveva allacciato una relazione sentimentale con la moglie di un affiliato detenuto. E' stato questo il movente dell'omicidio di Salvatore Totoriello il 27 settembre 2013, un cold case risolto dai Carabinieri del Rosso e del Comando Provinciale di Napoli. A decidere la sua morte fu il suo stesso clan, in particolare tre persone ritenute di vertice del clan Liciardi, a cui adesso i militari dell'arma e la direzione distrettuale antimafia contestano i reati di associazione mafiosa, estorsione, omicidio, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, aggravati in quanto commessi per agevolare il clan Liciardi e l'Aleanza di Secondigliano. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, Esposito fu vittima di una punizione d'onore. Venne attirato in una zona boschiva impervia di Napoli, nel quartiere Chiaiano, dove ci sono diverse cave di tufo abbandonate. Ucciso a colpi d'arma da fuoco, il suo cadavere sciolto nell'acido da alcuni affiliati al clan Polverino Simioli, costola del clan Nuvoletta, che usarono tecniche di lupara bianca prese dalla mafia palermitana. Si tratta, è stato appurato grazie a intercettazioni, pedinamenti e pentiti, delle stesse pratiche di occultamento dei cadaveri per scioglimento nell'acido utilizzate da Cosa Nostra nell'84, per far sparire per conto del boss Lorenzo Nuvoletta i cadaveri di Vittorio e Luigi Vastarella, Gennaro Salvi, Gaetano Di Costanzo e Antonio Mauriello. Per gli omicidi di quelle cinque persone avvenuti a Marano di Napoli il 19 settembre del 1984, nell'ambito della guerra di Camorra, tra le famiglie malavitose Gionta Nuvoletta e Alfieri Bardellino, è stato condannato in via definitiva nella veste di mandante il super boss Salvatore Rina.